Il futuro del Parco Divertimenti e dell'Andia e dei suoi lavoratori è al centro della commissione lavoro presieduta da Vincenzo Solombrino. L'incontro, che ha visto la partecipazione degli assessori Carmine Piscopo ed Enrico Panini, si è tenuto alla presenza dei rappresentanti della Mostra d'Oltremare e della New Edellandia, che ha rilevato la società dopo il fallimento. La seduta di commissione è stata l'occasione per fare il punto sullo stato degli interventi di riqualificazione e sulla riapertura del Parco. Dobbiamo capire un pochettino quali sono le difficoltà e quindi questa è la seduta giusta con tutte le istituzioni per capire un pochettino e mettere sul tavolo le difficoltà per trovarne una soluzione e per dire fine a questa problematica che la città aspetta da tempo. Come istituzioni noi ci siamo, stiamo ora sollecitando i progettisti della Noa e della società affinché ci consegnino un progetto conforme con le linee di indirizzo del piano regolatore, affinché le procedure siano ovviamente conformi al PRG, il che significa guadagnare dei tempi. Certo vi sono sempre delle difficoltà, anche la società ha rilevato e ha trovato una serie di materiali su cui è dovuto intervenire, le difficoltà si sono palesate anche durante i lavori come sempre accade, però c'è anche da dire che l'amministrazione ha costruito un percorso molto utile per quanto riguarda sia dal punto di vista della valutazione degli abusi ed edizi, sia per quanto riguarda le questioni legate al condono, sia per i permessi a costruire e così via. Ora il passaggio fondamentale diventa la redazione di un progetto conforme al piano regolatore affinché si possa procedere anche rapidamente. Diciamo che i lavori sono quasi completati, stiamo sistemando le piazzole dove verranno allocate le nuove gioste, sistemate le piazzole, faremo divare le sette gioste nuove che abbiamo già comprato, dopo di che il parco è completo. Purtroppo per aprire il parco abbiamo bisogno dell'agibilità del contenitore che ci deve rilasciare all'apposita commissione prefettizia e abbiamo bisogno dei codici identificativi delle gioste che ci deve rilasciare sempre alla commissione. Sono tempi in effetti adesso che sono svincolati dalla volontà della società. Nei prossimi giorni la New Edenlandia firmerà con i sindacati Cigiele e Cisluil una prosecuzione dell'impegno a riassumere tutti i 53 lavoratori in un primo tempo datata 31 maggio 2017. Quella data purtroppo non può essere rispettata perché una serie di lavori sull'area hanno prolungato ulteriormente i tempi di una possibile apertura. Quindi si allunga questo termine ma rimane fermo l'impegno. Contemporaneamente siamo impegnati con i nostri soggetti di consulenza a individuare modalità di integrazione di un salario che progressivamente, con la fine degli ammortizzatori sociali dalla fine di maggio comincerà a interessare tutti i lavoratori non riassunti dalla New Edenlandia per completare i lavori sull'area.